Ciao ragazzi, sono Diego Sombrero e oggi siamo... Non mi corre il personaggio... Siamo in una nuova isola creativa con un altro mio amico Che adesso non credo gli vada il microfono O gli va? No, credo gli vada Ok, ehm... Non mi ricordo più come si fa... Ok, flight time... Ah, sì, il biglietto, poi la valigia Vai Adesso dobbiamo andare al check-in È tipo un aeroporto, raga Dobbiamo andare al check-in Premere questo, non importa che prendiamo la cosa Perché non si può prendere Poi dobbiamo scendere per le scale È tipo un aeroporto, vero? C'è pure l'aereo Scendere per le scale, andare qui E poi, visto che non si può saltare Dobbiamo fare tutta la cosa come negli apporti vei Ok, il metal detector Gli oggetti metallici Adesso si va nel metal detector Si va qui Adesso dobbiamo aspettare Prima che l'aereo parta, ovviamente Ho visto un video su TikTok Ok, è pronto Adesso premiamo qui E dobbiamo trovare posto a sedere nell'aereo C'è anche un jet privato, ma dai La turbina che gira Tante robe L'hanno fatta proprio bene sta mappa Se qua sono i posti per me Vabbè E qua ci sono i posti a sedere No, mi fai più sedere Ok E adesso? Cioè, basta che ti senti nel mio posto e torni al centro Ah, ok Dovevamo fare soltanto questa cosa Non credo si possa andare sulla pista di atterraggio Sa di no Eh, no Vabbè Comunque è stato bello Vi fate passare il metal detector Non mi fanno passare Sei bloccato lì per sempre? Sì, sono bloccato qui per sempre No, sì, sono passato Ok Adesso di qua E basta Volevamo fare soltanto questa cosa Adesso proveremo ad andare Nella pista di atterraggio Che bello questo Patti riusci a farmi Oh Come 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 hai fatto? Com No Hai avuto una precision Ma come? Non ci hai passato Vabbè Ehm Non ci può andare Allora, tecnicamente Là ci dovrebbe arrivare ancora un nuovo aereo Vediamo un po' Se troviamo un'entrata anche qua Non ci può passare No Non ci può passare È bloccato Eh, si è bloccato Vabbè Comunque è bella questa mappa Sì Fatemi uscire Provo a rifarlo Vabbè Did your ticket Vabbè Ehm Intanto Faremo la Naruto run Yeah Aspetta Aspetta Va che sei Facciamo questo Allora adesso noi faremo Proveremo a fare Questa modalità Facciamo questo qui No Facciamo questa Più bella Cos'è La box fight No Vabbè No ti dà il P90 Ti dà un botto di Ernie Vabbè Io non so usare nessuna di queste Vabbè Comunque Questo era Come andare in America Su Fortnite In America Tra virgolette Nulla Sono rimasto bloccato qui Per sempre Ehm Ciao a tutti Ciao ciao Devo fare Devo trovare Un'inquadratura Aspetta Quanto ci mette Ecco Inquadrato sull'aereo Vai E questo era come andare in America Su Fortnite Dov'è l'emote Che si saluta Non la trovo Ah eccola Ciao ciao